Ucinesi desturati Ucinesi, ma tu dico già che stiamo fra l'amici tra virus, mare e razza si è scassato proprio un c***o prima mi ha rotto il mondo quando è largo e quando è tu con il virus del covid che ha bastato questi provetti poi, poi ho preso il copio più rammello mi guastò dice che per concorrenza e per fare convenienza si è un cuore rammello buono per abbassare la gradazione non ha bastano questi prezzi da terra giorgianese si è fatto più un razza che una traiettoria a pazza che tra pezzi e frammentoni ci ha scassato già i c***o dice che se il cervello si è scenduto sopra la fine e può fare questo c***o che r*****o tra i miei state calma per la picca sotto sotto e città città tieno a freno mani e piedi vedo un po' se ti siete dacci tregua a noi provetti non lasciarci muti e freddi perchè ci viene il riparo sopra dici da c***o io non so che ne razzisti ne fascisti o comunisti però caro giorgianese stati buono al tuo paese altrimenti stai sicuro ti mandiamo a fare in c***o e beh ciao